Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo e sull'Italia quindi ci attende una giornata sostanzialmente da piena estate da nord a sud controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese come vedete ampie zone di sereno, non ci sono annuvolamenti significativi da nessuna parte e di conseguenza anche come precipitazioni poco nulla da segnalare nelle ore pomeridiane magari qualche breve piovasco può formarsi a ridosso delle zone montuose soprattutto sull'arco alpino ma davvero fenomeni isolati, classici acquazioni di calore estivi quindi in definitiva ci attende un martedì all'insegno del bel tempo in tutta Italia a parte appunto la possibilità di qualche breve piovasco nel pomeriggio in montagna al nord però attenzione come vedete anche caldo protagonista temperature in aumento al centro nord toccheremo anche i 33-34 gradi all'ombra per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo